ciao oggi vi faccio vedere un custom che ho preso da poco della black hog niles black hog credo che sono due ragazzi italiani che fanno dei custom abbastanza da uso io me ne sono fatto fare uno su loro disegno anche se poi le dimensioni le ho scelte io si presenta con un fodero in kydex sottile ma pratico con passacinture e fisso non si può smontare il coltello è un modello da campo abbiamo scelto il d2 come acciaio da questo lato vedete c'è il marchio del maker black ock il coltello è ancora pieno d'olio spessore 6,5 mm l'acciaio utilizzato è il d2 per la manicatura abbiamo optato per green canvas micarta molto bello vedete e degli spaziatori molto sottili rossi come vedete la forma è abbastanza particolare ha un passo finger groove per la presa un po più avanzata e la manicatura è comunque abbastanza comoda come vedete è perfetta per la mia mano il coltello come dicevo è un grosso bowie un grosso coltello da campo abbiamo una lunghezza totale di 340 mm con una lama da 210 mm il tagliente però è 7 pollici e mezzo 190 mm devo dire che ancora non l'ho provato taglia si presenta molto bello l'unica pecca diciamo che gli ho trovato ma la colpa è mia che non ho chiesto prima è che gli angoli di dell'acciaio sono molto netti e quindi uno può anche farsi male ma usandolo col tempo si andranno si potrebbero smussando la manicatura come vedete è lavorata 3d in fondo loro hanno messo un piccolo laccettino con un teschetto anche abbastanza grazioso e devo dire che i prezzi sono abbordabili devo dire che si ragazzi lavorano abbastanza bene il coltello mi è piaciuto molto un bel coltello da campo black hog camp knife